buongiorno volevo salutarvi io vengo da milano in questa clinica made in team ho avuto problemi di cocaina crack ho percorso due settimane e volevo dirvi che veramente è una clinica fortissima in italia sono andato in altre due cliniche ma non ho mai trovato il conforto la collaborazione e la professionalità che c'è in questa clinica volevo salutare personalmente il dottore alexei che veramente lo trovo molto molto competente nel suo lavoro la mia traduttrice dani borca che mi è stata molto vicina e la ringrazio personalmente di cuore e tutto il staff per tutto il percorso che ho avuto adesso mi sento molto bene in solo due settimane poi loro mi seguiranno da qua con tutte i medicinali vitamine e tutto il resto volevo salutare tutti chi ha un problema questa è l'unica scelta un me di team che puoi uscire senza puoi uscire veramente con un percorso molto molto rilassante tranquillo perché tutti abbiamo i nostri problemi però qua veramente i problemi te li fanno a zero voglio ringraziarvi tutti un saluto e ciao